Tra un po' su Twitch farò l'estrazione dei reggiseni Cioè? Perché io avevo fatto questa cosa che durante i concerti dovevano lanciarmi il reggiseno Sì Con o il numero o l'Instagram Ok Poi io con Riko e tutti gli altri raccoglievo tutti i reggiseni sul palco Ok Li portavo a casa Sì? Quindi tu a casa tua adesso hai una montagna di reggiseni? Ho uno scatolone enorme Sì Che non si chiude Ok Di reggiseni Perché? Perché su Twitch dicevo che avrei poi estratto 5 di questi reggiseni E avrei invitato le 5 ragazze dei reggiseni a cena Beh mi sembra una grande mossa questa Ma grande tecnica